Buongiorno ragazzi, oggi vi faccio vedere che cosa mi è arrivato da gluten free matera. Allora, innanzitutto abbiamo queste tartine bio tostate alla quinoa, senza glutine ovviamente. Poi questo di qua che è il pan riso, cioè una miscela per pizza e focaccia senza glutine. Poi abbiamo queste di qua che sono mezze penne con lenticchie rosse senza glutine. Poi queste di qua che sono spaghetti al grano saraceno. Poi abbiamo queste di qua che sono tartine bio tostate all'avena. Poi questo di qua che è un mix per dolci, per torte e biscotti, tutto biologico ovviamente. Poi abbiamo qua i paccheri senza glutine. Abbiamo questi di qua che sono i fusilli con farina di piselle e riso integrale. Poi abbiamo qua i fusilli. Poi qui abbiamo l'amido di frumento senza glutine. Altri fusilli con farina di ceci e riso integrale. E poi infine abbiamo questo preparato per dolci biologico, ovviamente tutto senza glutine. Grazie a gluten free matera. Grazie a tutti. Grazie.